Ciao a tutti, bentornati a Madison da me e da Len che è sempre in mia compagnia. Ciao Len. Ciao, ciao. Allora sul finale dello scorso episodio dopo aver ascoltato questa cassetta dove il signore qui ha detto che c'è un demone praticamente che ha posseduto prima Madison e ora la supposizione di Len è che ha posseduto anche Luca, questo Luca. Sul finale dell'episodio poi io ho scattato una foto a queste foto che stanno qui e una si è tipo bruciata e adesso ce l'abbiamo nell'inventario. Tra i collezionabili sì. Eccolo qua, abbiamo anche sbloccato un achievement, non ho letto di che achievement si tratta però abbiamo sbloccato anche una achievement. Credo che sia la porta rossa di cui parlava Luca dopo la registrazione giusto? Esatto sì. Ok. Allora continuiamo a spippolare questa bellissima casa ottocentesca. Sì abbiamo da mettere questa cosa all'orologio mi pare. Cosa? C'è Marte e Giove in quel coso rotondo che hai nell'inventario e bisognerebbe credo metterlo nell'orologio. Non so se in questo o nell'altro. Ce n'è uno qua. Però non so in quale dei due. Questo dici? No non va. Non ci va. Andiamo a provare l'altro? Magari, vabbè. Ma io penso che c'è un enigma a parte per questi orologi, perché ce ne sono troppi. Ah, vogliamo rifare una foto qui? Magari si è aggiunto... No, aspetta. Magari si è aggiunto quello che mancava al centro? Andiamo, andiamo. No. No, sembra sempre uguale. No, sempre il pianeta, la goccia e il 2. Ah, vogliamo fare una foto qui? Non l'ho fatta. Eh, scusate. Ah, qua sta l'orologio. Mamma mia quanto è brutto quello, guarda. Allora. No, non va neanche qua. Non va neanche lì? No, no. Che cavolo. Allora, le candeli sono accese adesso, ti sei accorta? Eh, adesso sono accese. In fondo c'è sempre la porta con... Con i lucchetti. Allora, qui c'erano i nudi, no? Sì, sì. Non abbiamo ancora la combinazione noi, giusto? No. Quello lì... Vabbè, non fare caso ai rumori. Ah, io no. È tutto normale. Proseguirei per di qua e andrei per di là. Ok. A questo punto. Spipoliamo un po' in giro. Io farei delle foto anche a queste... Chi è? Si è aperta la porta? No. Questa era aperta ma non ci si vedeva una ceppa. Ah, sì, giusto. Poi... Troveremo qualcosa per far luce. Ah, adesso si... No, adesso è illuminato. Si vede che accendendo il generatore... È un bagno. Ah, lo sapevo. Eh, però vedi, vedi che c'è qualcosa qua? Ah. Ah, donut use. Eh, credo. Con il martello? Anche con una pedata, dai, per favore. Quanti problemi che si fa a sto ragazzo. Vediamo un po', vediamo un po'. Uscirà un demone da... No, dai, il demone dal cesso. No. No, niente. Niente, ho usato tutto. Attenzione, c'è da leggere. Bene. Ah, la combinazione. Destra, cinque, a sinistra. Ma... Ma... Destra... E cinque a sinistra. Eh, si vede che non c'è... Destra e cinque a sinistra. No, questa è una combinazione per una cassaforte, non è una combinazione per un lucchetto. Eh, no. Aspetta che mi segno perché questo lo lasciamo. Eh, fai destra e cinque a sinistra. Blu, knees? What? Oh, abbiamo sbloccato l'achievement. Blu, knees. Ah. Che è? Eh, knees vuol dire ginocchia. Ginocchia blu è reale. Blu? Blu? Non si può pulire sto coso? Fagli una foto, non so. Sì, eh, si, faccio una foto. No, niente. Ma dò, le pasticche in questa casa. Ah, sì. Niente. Io farei... Allora... Che cazzo è? Ma poi ci sono quadri dappertutto. Questo qua si apre? Adesso vediamo. Vabbè. Pensaci un pochetto. E poi quando sei pronto che ti senti proprio le forze nella manina... Abri... Abri... Paola... Abri... Tira! Tira! Siamo davanti? Vuoi che mi sposto? Grazie. Mi sa che è una shortcut. Eh sì. Eh sì, è una shortcut. Dietro la... Vogliamo fare una foto nella vasca da bagno? Attenzione, attenzione. Attenzione. Ha detto di stare lontani dagli insetti. C'era qualcosa nella vasca, sul muro. Sì? Ah, c'è un muro. Ok. Che cos'è? Ah, c'è un coso rosso. Magari è un collezionabile? Ecco, muovi. Ah, ok. Ah, quindi questo è un collezionabile. Pure quello che abbiamo preso in cucina è un collezionabile. Niente di che. Io pensavo che era la porta rossa. Beh, penso che si ispiri comunque al fatto che lui deve cercare questa porta rossa. Vabbè. Allora, abbiamo sbloccato la shortcut. Allora, qua c'è un altro orologio. Possiamo interagire con questo orologio qua? Un attimo che sto facendo la mia arte. Niente. No. No. Perché lì c'è quell'orologio che si è male 9. Lì c'è l'orologio. Lì abbiamo sbloccato la shortcut e ci rimane da andare di sotto. Eh, ne avevamo già fatto tutto di sotto. No? No? Ah, vabbè. Qualcuno sta girando la manovella, non voglio sapere chi, eh? No, no, giravo anche prima. Giuro. Non è che c'è qualche foto, no? No, che dobbiamo... Voglio andare a vedere la porta rossa di cui ha parlato lui, che stava qua, no? Sì, sì. Allora, proviamo a fotografarlo. Ecco, bravissima. Sì, sì. Vediamo cosa ci dice questa foto. Guarda, guarda gli insetti, guarda gli insetti. Vedi, è tutta scucciata dalla polizia. Eh, sì, eh, sì. E quindi? Quindi, quindi, quindi? Quindi è il teatro, penso, del massacro. Del massacro, credo. Del massacro, del massacro. C'è un altro foto? No, no. D'aprire? No, penso che una, basti. Ma io, per sicurezza. È solo la prima lì dà gli indizi, poi l'altra è normale. Poi ci stanno gli insetti, però, eh, io dico. Vedete che dove ci sono le foto, si fanno le foto, poi. Va bene. E non aprirei con questa spalderia. Comunque va bene. Il pozzo! Bene. Eh, cos'è questo pozzo? Lì vicino c'era qualcosa da guardare. Questo. Questa pala. Mmm, afferra. Ah, qua, qua, attenzione, attenzione. C'è una foto, c'è una foto. C'è una foto. Al pozzo, sì. Sorrida. C'è mezzo aperto. Magari a continuare a scattargli foto, si apre. Ah, c'è un simbolo sopra, guarda. C'è? C'è il simbolo sopra. Che qui non si vede, però se nella foto si vede, vedi? Sei uno di quei simboli satanici. Ah, sì? Eh, non vedo. Nella foto. È la zoomy. Non zooma mai. Aspetta, aspetta. Eh, più di così non si zooma. Ah, ok, sì, adesso lo vedo. Allora, e... Sa che c'è da aprire tutti questi lucchetti. Che voglio dire, io li lascio. Non è bello che faccia così quando scattano? No, infatti. Ma poi, se ci sono dei lucchetti, io presumo che ci abbiano chiuso qualcosa, no? Vedi? Vedi il simbolo? Adesso si vede meglio. Sì, sì. Eh, prova a interagire con il lucchetto, che ti dice? Guarda, ci sta il simbolo! Allora, se sono tre, li dobbiamo mettere... La goccia e dobbiamo mettere gli altri due. Allora, come si... Quindi la goccia stava a destra. Invece di qua c'era... C'era il due. Il due. E poi sopra c'era Saturno. Allora, due. Mettiamo qui due. Eccolo. Ecco qua. Due. Ok? Ok. Poi... Lì c'era la goccia. La goccia. La goccia. Ok. Ok. E poi Saturno. Esatto. Ma cosa cazzo, però, la dici? Eh, ma c'è ragione, però. Ecco qua. Sì, ma che museo apre. Eh, però, effettivamente, è un cerchio. Quindi vai a sapere qual è uno e qual è l'altro. Cioè, può essere che siano spostati. Quindi dobbiamo rifarlo fino a che non è giusto. Io proverei a rifare la foto, perché si sono aperti, Lucchetti. Ah, ma si sono aperti? Sì, sì, vedi. Ah, non l'avevo vista. Allora l'abbiamo azzeccato. Sì. Ok. Pensavo che non avessimo... Ti hai visto! Non avevi ragione! Ti hai visto! Perché miseria! Eh, ci ho fatto con le foto, quindi... Eccola qua! E quindi... Ecco, è saperlo, sì. Eh, sì. Bene. Adesso possiamo scendere? Eh, sì. Sì, ciao! Ciao! Non sia così... Tifona! No, ma io non ho paura. Ho più paura degli negli. Però devo dire che fino adesso sono abbass... Eh... Non lo voglio di alta voce, lasciamo perdere. No, fino adesso... È andata bene. Cioè, nel senso che li avrebbe fatto... Eh... Spieghiamo, non possiamo dire il nome del gioco, perché ancora non è uscito tutto l'acqua. Cioè, mamma che... No, mi sa che devo fare una foto. Ah, no, aspetta. Acqua. Un attimo, eh. Un attimo, che ci raccapizziamo. Un attimo. Un attimo. Don't kill me, please. I am la Rappadawan. Gli ne frega niente. Gli ne frega niente, proprio. Vabbè. E... Ok. Peace and love. Pare brutto così, però... Diventa... Diventa strettissimo. Aspetta. È là. È là. Guarda là. C'è una luce. Guarda là. Cosa c'è lì? Oh, che roba, non lo so. Hmm. What? Ah, stanno... Eh, infatti. La radio? Eh, sì. Officer Russell. Che è quello che ha sparato a Madison, giusto? E qui va già. Beh, non lo so, io non... Non mi ricordo. Ti ricordi, gente? Non mi ricordo, non c'è niente. E come si usa questa cosa? Eh, mi sa che devi usarla come... Come? Il coso per... Sai? Quello che usano per... Per vedere se c'è alien. In giro. No, come fasmafobia. Ezza. Le MF gli. No, mi rifiuto, mi rifiuto. Quindi quella lucetta rossa mi lampeggerà di più e farà rumori quando io entrerò in contatto con qualche co. Ecco. Cioè, quando vado nel buio, guarda. Guarda. Guarda quando dà nel buio. Eh, lampeggia più... Sì. Non so che cosa devi seguire. Eh, lampego io. Vabbè, io mi butto. Attenzione al jumpscare. Mmh. Qui è fisso rosso. Oh. Non sto capendo. Eh, no, neanche io. Perché mi sa che qui la radiolina c'entra tanto ma non so come. Attra, no. Sì. attenzione hai trovato qualcosa devo fare solo un po' di foto qui al centro ok ok adesso dobbiamo trovare il punto dove sentire bene esatto si trova dove il segnale è migliore qua direi che è buono prova a farlo il segnale il segnale ammazza quanto è difficile rende il segnale prova da qui fai magari un po' di foto dove il segnale ti sembra più forte girata ecco non ti fa uscire da qui vero? sei dentro la puzzola è infasciatissima ci c'è la puzzola ok la foto è contata male e non è venuta ma siete andate no ci siamo ancora nell'acqua dobbiamo trovare un altro punto dove si sente bene è passato qualcosa hai visto? no mannaggia volevo accendermi la luce prima non l'ho acceso sto al buio io e poi non è una luce sai tutte quelle luci colorate che si spengono e si accendono e si alternano sento dei rumori non so se ma probabilmente è di là eh prova qua a far la foto ecco oh my god mamma mia eh ma vengono tutte così allora bisogna fare le foto dove sentiamo meglio la radio ok qua no vado? oh sì oh oh abbiamo perso il segnale del tutto oh oh officer Russell here June 17th 1987 5.27am I am now entering Madison Eo's basement 2 L.A. can't stop 1987 I can see there's a sort of well in the center of the room looks like it's open I'm gonna investigate further see what's on the other side of this bella idea finti? oh god almost can't take it oh god tend to make things worse I can't see your god damn thing down here eh neanche noi signora gente oh god oh god I think I found the missing individuals yeah they're all mutilated legs arms they're just everywhere I can't see Madison I don't think she's here oh god I gotta get out of here oh god sola ecco la cosa non è che mi mi inquieta parecchio eh non so se stanno succedendo anche a noi le stesse cose se stanno succedendo anche a noi le stesse cose madison is that you? no non è madison 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 show yourself the next order ok ok fenomeni paranormali io faremo foto hell metti le mani dove posso vederle si fino a che e l'ha uccisa però anche a madison avevano sparato in teoria oh no dai di nuovo non prende il segnale qui sotto andiamo in un pozzo abbiamo dei problemi pronto 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 Oh Dove senti, secondo me, di più? Qua? Eh, io qua, sì. Eh, però... Magari verso il centro devi farlo forte. Verso il centro, dici? Eh. Sono affasciadissima, sapevo io, ma aspettavo. Why is this happening to me? I gotta get the hell out of... No. What? No. Ah! La caccia... Fasciadissima. Maledetta. E quindi? Siamo morti? Ma? Tante porte rosse. Ma no, cretino! Ma non l'hai visto che non è una donna? Ma poi te ne frega! Aspetta. Adesso un'ora e mezza per aprire ogni porta. Mi facci vedere prima? Sono tutti uguali, entrate. Eh, forse devi fare la foto, quella che... Ah, infatti, vedi? Infatti. Vabbè. Eh, solo che come faccio? No, mi sa che dove è la foto giusta probabilmente c'è quella... Quell'esplosione. No, eh... Questa. Cioè, io pensavo che fotografassi tre porte, no? Invece no, una per una. No, una per una. Quella è aperta, è rimasta aperta. Vabbè. Sì, è quella giusta, me la darà lo stesso, no? Ah. Vai. Eh. Sbagliato. Sbagliato. Beh, vuoi questo o è questa, allora? Eh, sì, sono due. Eh, allora è questa. A terra non ci sono indizi. Eh, no, ci sono solo le foto. Solo foto, foto, una. Faccio una foto per terra? Tre, quattro. Guarda. Guarda, Lara. Mhm. Se tu guardi a destra, ci sono... C'è una foto, vedi? Poi vicino ce n'è due. No, però qua sono due. Qua sono due. Qua sono due. Pensavo che ci fosse un codice per aprirla. Perché qua è una. Ma no, ma queste si aprono tutte? Sì, sì, però magari un ordine. Sai, prima una, poi l'altra, poi l'altra. Eh, se dobbiamo andare per ordine, secondo la mia, di logica, io aprirei questa. Ce n'è una davanti. Eh. Oppure questa. Eh, che sono di più con una davanti. Invece pensavo... Eh, pure questa c'è una. Perché vedi, qua ce n'è una. Qua ce n'è tre. E qua ce n'è due. No, ce n'è tre anche lì. No, qua ce n'è due. Vabbè. Apriamo una porta. Proviamo. Aperta una porta se è per importuno o se chiude, non lo so. Ma, vabbè. Vuoi una spinta, Luca? Vuoi una spinta? Spintarella. Vuoi una spintarella. Bravo. Ma sentri qua dentro, che succede? Eh, che ne so io, io sono entrata. Ah, così proprio. Hai una cazzata, scusate. Eh, perché... Perché devi aprirle con un... Con una logica, probabilmente. Eh, ho capito, ma... Qual è questa logica che non capisco? Eh... Eh, le hai le foto di tutte le porte che hai fatto? Sì. Che te le fa vedere? Non c'è niente sopra, ne? No. Io non vedo niente. Tu... Tu vedi qualcosa? No, niente di diverso, no. E mi sa che l'unica, allora, sono le foto davanti. E se provi a fotografare le foto, vedere se viene fuori qualche... Qualche numero. Allora, fotografiamo sempre una porta per volta, eh. Queste sono due... Allora, queste tre erano uguali. Vedi che le foto erano ai lati. In tutte e due. In tutte e tre. Invece qua ce n'è una davanti. Eh, ma pure qua c'è una davanti. Vediamo. No, c'è niente. Qua ce n'è una. Qua ce n'è due. No, qua ce n'è tre. Facciamo così. Prova ad aprire prima questa sinistra. Questa qui? Esatto, sì. Un'ora e mezza ci metterà, però vabbè. Ok, poi girati e vai all'altra, questa. Questa qui a destra? No, la vicino ancora. Quella, sì. No, no. Questa, questa qua... Aspetta, abbassati. Ok, questa qua che stai toccando. Questa qua? Questa, sì. Prova. E poi quest'altra vicino qua. Questa qui? Esatto. Sì. Niente. No, ho visto, mi sembrava uno, due, tre. Vabbè, se le apri tutte, prova ad aprirle tu. Ah, si sono richiuse, maledetta. No. No, no. Ah, no, pensavo che non si fossero richiuse. E dovevamo semplicemente aprire tutto. Tu scatta foto come se non ci fossero noi. Sta per arrivare qualcosa. Me lo sento. Me lo sento nelle ossa, me lo sento. Oh, quale foto? Quale foto? Ok. Ok, adesso sono tutte chiuse. Me ne puoi aprire più. Non so, pure io sono un bocchetto. E adesso mi sa che ci sarà da trovare quella giusta con la porta, magari. Oh, no. Arrivano. Oh, no, no. Ecco. Vabbè, facciamo così, è intuito. Facciamo... È chiuso. Ma sono tutte chiuse. Come l'apri? Ammazza che repus complicato, però. Questo è complicato, eh. No. Ma bisogna fare la foto alle porte o... O alle foto per terra? È quello che non capisco. Forse le foto a terra... Forse la porta giusta è dove ci sono più foto a terra? Non lo so. Oppure... Questa qui da dove vengono gli insetti? Perché... L'ho vinto. Appunto. Almeno siamo rientrati in casa, spero. Welcome back. Alla scivimento, welcome back. Eh, infatti. Che bella... Che bella avventura, eh. Bellissima, sì, sì. Damose, damose proprio, damose proprio. No, vabbè, no. Dai, però. No, no. Oh, no. L'ho vista, sa. È inutile che scappe e si nasconde. Che l'ho vista. Come gargoyle. Ma tu sei posseduto, bello, di casa? La soffitta? Ah. Sì, questo è... Non lo capisco. Non lo capisco. La soffitta stava... Ah, intanto lui ha segnato qualcosa nel quaderno. Sì, avrà messo qualche altro bel disegno. Avrà messo la soffitta, secondo me. Ecco, vediamo. Tra gisci. Esatto. Allora, dove stava la soffitta? Non era da questa parte? Qui, tipo. Più avanti. Eh, non mi ricordo. Intanto se... Ah, no, no. Questo è il bagno che avevamo sbloccato prima. Questa è chiusa. Tipo qua a sinistra. Eccola. Si è aperto. Si è aperto. Ecco. Bene. Non c'è bisogno di questi jumpscare, eh, però. Grazie. Perfetto. Stiamo se sopra... Però guarda in su mentre vai, Luca. Eh sì, è lui che guarda in giù. Eh, lo so. E che se ne frega, Luca. Ma cos'è questo... Scricchiolio! Allora, i nonni in barca. Eh, c'è scritto anche roba dietro. E' solo un numero. Puoi aggiungere o sottrarre? Ma alla fine della giornata, quando arriva il momento, muori comunque. Ma non puoi sottrarre. Puoi sottrarre. Ma quando mai puoi sottrarre? Viva l'ottimismo! Viva l'ottimismo! Vedi, però, guarda, guarda un attimo la foto. Girala di nuovo. Ah, la foto. Sì. Vedi che hanno... Hanno sottolineato due parole. Dietro. Hanno sottolineato aggiungere e sottrarre. Quindi può essere che c'è... Ah, infatti qui al muro ci stanno dei numeri. Vedi? Con più e meno, vedi? 36 meno 33. Vabbè, abbiamo capito? C'è qualcuno qua sopra? Ah, roba da aggiungere a un quaderno. No. Ah, no, è da usare qualcosa. Questa? No. No, c'è quella niente. No. C'è qualcosa da usare? Ma secondo l'oro cosa c'è da fare lì? Almeno dire, però, cosa c'è da fare. Devo trovare questo oggetto. Ma cos'è questo scrittio lì? Aspetta. Magari qualcuno che... C'è un numero. 43. E mi sa che bisogna aggiungerlo e sottrarre da questo numero qui. Quale numero? Da 43. E devi aggiungere e sottrarre qualcosa. Eh, però, però, aspetta. E... Ah, qua ci sono. Allora, aspetta. 43. E qui, aspetta, c'è qualche altro indizio? Delle foto con qualche altro... No. Secondo me, innanzitutto, ci saranno i quadri da rimettere a posto. Perché è pieno di... Quadri che non abbiamo, però. No, no. L'età 43 è l'età di Madison. Forse bisogna sottrarre e raggiungere l'età di Luca, può essere. Che era, mi pare, 16. Però, poi vai a sapere cosa devi fare. Ancora non abbiamo... È fastidiosissimo questo rumore che si sente. Allora, qui c'è. Provate ad andare a guardare. C'è? Ah, questo si può togliere, però. 5 li ha sold. 5 anni, Albert. E tu... 43 più 5 è 48. Ma non... Sì, questo lo... Eh, vediamo. Magari serve. No, ho troppe cose. Ma ci mi metto sbroccato. Falli? L'ho added. L'ho added. Eh, sì, che sei pieno fino a scoppiare. Ah, ecco. Sei pieno pieno. E niente, non lo posso... Allora, dobbiamo prima liberarci di qualcosa. Ma non tanto che ci liberiamo. Attenzione, guarda qua. C'è una chiave. Non mi prendere neanche questo. No. Aspetta. Dobbiamo fare il spazio. Cosa possiamo lasciare? Io odio... Eh, la cassetta non la posso lasciare. L'abbiamo già ascoltata. Eh, però non ti fa lasciare niente. La pala non la lascio perché potrebbe servire... No, no. Queste scatole nemmeno. Eh, eh... Ah, l'unica cosa inutile è quella, solo che non te la fa lasciare. Ma che cazzo no la è? Ah, credo che siano solo rumori, così. Allora. Sì, ma non c'è un modo per scartare la roba. Come si fa? Eh, no, infatti. Mi sta che la devi proprio usare. Cioè, nel senso... Quando completi un... Un enigma... Lì non puoi mettere... Sull'orologio non puoi mettere niente, vero? Eh, sull'orologio... Prova a vedere se te lo mette questo qua. Questo medaglione. No, eh. No. Cioè, ci abbiamo troppa roba, ma tu te ne rendi conto? La palla qua non la usa, né? Queste assi? No. 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 Sto usando tutto. Questa chiave dove potrebbe essere usata? Questa qua con... Con attorno al filo... Che sembra il filo spinato. Eh, non c'ho idea. Eh, ah, non ce stanno porte. C'era? Vabbè, il... Quella mi sembra una chiave d'orologio. Ah, guarda. Eh, ma non si può prendere. Terribile. Ma è terribile, no? Strana. Eh, cosa c'è? Giovanna Maxwell, 56 anni. Ah, ok. 43, 56, 5, 16... Abbiamo un po' di numeri. Ci manca l'età del... Del marito. Ma porca puzzola è fasciatissima, che fastidio. Cos'è quella? Cos'è quella roba lì? Il mio fotografo. Peccato, perché basterebbe poter lasciare giù qualcosa, ma non ti fa lasciare giù niente. Il rumore lo fa il candelab. Ahia, che è successo qualcosa? Eh sì. È comparso qualcosa. Oh, 25. Quindi bisogna... Ah, bisogna fotografare. Tutte... Aspetta. Fammi provare. Ci stanno i numeri sopra ogni impronta... Di quadro. Vedi? 38... Eh sì. E... 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 25 cos'era ovale? Che era? No, qui non si può. No, qui non... Non si è mosso. Quello a destra. Cioè, quello a sinistra, scusa. Era... Era ovale? Questo qua dove c'è... Ah, è lo tondo. Sì, è tondo, è tondo, scusa. Ok. Che poi è stupido, ci stanno le foto qua. È vero. 10. E basta? Di là ce ne erano altri... Questo l'abbiamo fatto. Quello sì, quello di là... Eh, togli il qua... Eh, ma non lo posso prendere. Posso prendere. Facciamo un po' ma non lo posso prendere. Perché questo quadro va dove c'è il 10 perché è quadrato. E poi bisognerà o aggiungere un sottranno. Di cosa possiamo liberarci? Eh, ma non posso togliere niente. No, nel senso, possiamo andare a risolvere qualche enigma e toglierci qualcosa di torno. Eh, questo. Ma non l'abbiamo parlato. E la chiave dove va? Eh, non lo so. Proviamo ad andare giù. Andiamo. Mamma mia, a meno male che stai a Namo. Mi sta da cervello, sto niente. Cretini. Dopo un po' smettetela. Fate altri rumori. Allora. Aspetta, vediamo un po' questa porta. Questa era chiusa. Non si apriva. Ah, è vero. No. Ah, non questa niente. Proviamo una delle porte chiuse qua. Se serve la chiave ti dice che serve la chiave. Serve qualcosa che poi azioni l'inventario. No? Poi questo non corre, non corre. Eh, no. Radipo. Questo cos'è? Ah, a destra. Ah, la televisione. Sì. Qui c'era una porta. Ah no, questa l'avevamo aperta. Ah, aspetta. Non è che qui possiamo metterci la roba? Sì. Ah, non lo so. Conserva. Ah, conserva. Ma dai. Porca miseria. Allora. Conserviamo una cassetta. Assolutamente. Conserviamo. Vedi, abbiamo sbloccato anche una ciment. Extra pockets. Bene, bene. Almeno due costellette. Queste qui. Questa qui. Martello no. Questa no. Le foto. No, le foto no perché noi abbiamo fatto le foto ai quadri. Il quaderno no perché ci scrive. Questo qui. Vogliamo metterlo dentro? Sì, mettilo dentro. Tanto per adesso non serve. La chiave magari tienila. Non si sa mai. Hai capito? Ci dobbiamo ricordare che in cucina c'è... Chi è stato? Hai sentito? No, è sì. Ha chiuso la cassaforte. Credo che sia stata lei. No, ho sentito un fischio. Sì? Allora, praticamente dalla cucina dobbiamo venire qui. Si ricorda lei? Sì, dai. Dove c'è la televisione? Sì. Oh. Dei rumori assurdi. Io imbraccio la telecamera. Sì, buona notte la telecamera. Ok, quindi adesso cerchiamo di risolvere questa cosa dei quadri. Aspetta. L'hai fatta, l'hai fatta. No, però siccome non è successo niente. Ah, non era successo niente. Se la smettesse di non si muore. Mamma mia. Allora, però, questo numero qui, secondo me, è il numero chiave. Eh, poi ci penseremo. Innanzitutto mettiamo i quadri nel posto giusto. Vediamo che ci dice. Mi sa che è la somma o la sottrazione di tutto. 13. Non lo so, eh... Cioè, se il risultato... Forse il risultato deve essere questo? Vediamo, intanto mettiamo i quadri a posto. Allora, c'era un quadro qua. Questo qua, ok. Allora, questo qui dice... 56. Eh, 56. Che vuol dire? Dove lo dobbiamo mettere, questo? Ah, aspetta, c'è una chiave qua. Sì, sì, quella è la chiave. Ah, è qui? Che dobbiamo... No, qua c'era da trovare la cosa per interagire, no. No? Non ce l'abbiamo. Che fastidio, questo rumore, però. Allora. Intanto a mettere il quadro quadrato qua. Dici che è così banale, dici? No, no, sicuramente c'è da fare. Però, almeno questo qua. Ok. Poi? E poi, vabbè, qua non ce l'abbiamo, credo. Un quadro rotondo. Dobbiamo trovare quello lì... A rombo. No, vedi, questo qua, fatto così, dobbiamo trovare il punto giusto. Quello l'ha? Lì? Esatto, qua. Lo mette? Ecco. Ok. Ma, si è aperta una porta? Ho un portovale, non lo so. Ma, si è aperto qualcosa, però, perché... Io ho sentito... Cos'è quella cosa lì? Lì sotto? Ma no, io saprei. Sì, no, io saprei. Allora, vediamo un po'. Si è aperta una porta qui? Sì? No? No? Quindi? Dovremmo trovare gli altri quadri? Allora, innanzitutto, qui che numero c'erano? Che numeri c'erano qua? Andiamo un po'. Allora, lì c'era il 25, su questo qua rotondo. Allora, sul 13 ci abbiamo messo una signora. Va bene? No. No, no, questo è il 13 e l'altro. Allora, sul 10 ci abbiamo messo lui? Il bambino, sì. Che ha 5 anni. Sul 38 ci abbiamo messo la signora? Sì. Che ha 56 anni. E quindi 56... Eh, quindi... Dove essere 56 meno 38... Che fa... Eh... Ma non so se dobbiamo... Cioè, non ho capito... Secondo me dobbiamo... Riferirci a quel numero là. Quindi se qui è 43... Dobbiamo fare la somma... In modo che scendiamo a 43. Ma forse manca qualcosa? Perché lei ce n'ha 56. Aspetta. Allora aspetta. Se ne togliamo 5... Eh, so... Non so... Comunque 52. Non arriviamo a 43. Devi... Devi mettere... Eh... Prova a mettere... La signora... Questa qua... Mettila nell'altro, quello vicino. Qua? Questo qua, sì. Qua? Poi? Ok. Oh! Il bambino... Ah no, pensavo che... Si era modulito il rumore. Il bambino? Allora... Però... No, aspetta un attimo. Perché lì sotto c'era il 13... In quello... In quello così. E 56... Eh... Meno 43... Fa 13... Eh... Però così è già completo tutto. Invece il bambino ha 5 anni. Ah... Ma la rimane meglio mortacci, stracci tua. Segui a fare proprio tutto un calcolo. Allora... 56... Eh... Facciamo... Proviamo meno 30. Ok. Lei facci, facci. Io intanto faccio la foto lì. Si è chiusa la porta, intanto. Ma senti i rumori che si sono inventati, sti maledetti. Allora, vediamo... 56... Meno... 8... Più... 25... Eh... Ci sta... Solo che ne manca uno. E se facciamo... E qua è tutto a calcoli. Io non sono bravissima. Se facciamo 43... Riferendoci al 43... Che sta lì dietro. Sì, sì... La somma deve essere... Cioè... La somma di tutto deve essere 43. Sia... Cioè... Può essere sottratto o può essere aggiunto un numero. E secondo me tu devi mettere i quadri in modo che ci siano i numeri. Ci sono. 43... Meno 38... Fa 5. Sono gli anni del bambino. Eh, però devi metterli in modo che poi quando li sommi tutta la somma dia 43. Non soltanto il bambino, anche la signora. Quindi devi usare 56, che sono gli anni della signora, il 5. E poi i numeri che vedi qua sotto. Mettere i quadri in modo che la loro somma o la loro sottrazione faccia 43. Aspetta, però. Perché comunque questo ragazzino... Io da qua lo levo. E lo metto qui perché c'era il 38 qua. Giusto? Eh... È giusto? Sì, sì, sì. Sì, lì c'era il 38. No, no, lì c'è il 13. Ah, no. Il 38 sta qua. 43. Meno 38 fa... Oh. Ma no! Allora, 43 meno 38 fa 5. E ci mettiamo il ragazzino. Oh. Ma... E poi, poi... 43 più 13... Fa 56. Esatto. Il 13 stava? Qui? Il 13 no, è quello con... È quello a esagono. Ah. È qua. Quello. Ok. Eh no, sbagliato, scusate. E ci siamo. È aperta. Riguardiamo qua? Potremmo guardare qua. Manco questa ceppa. Aspetta, aspetta. Succede qualcosa. Succede qualcosa. C'è un insetto. Insetto. Eh, non ci andava sul... Sul muro prima, eh. Sì, che l'ho visto. Ah, sì? Sì. Vabbè, allora... È una burla. Eh, però qui manca un quadro. Ma non ci sono altri quadri, no? Cioè, non abbiamo altri quadri. No. Aspetta, eh. Eh, però secondo me l'ho messi bene, eh. Cioè, noi dobbiamo fare riferimento sempre a questo numero qua. Sì, però deve essere tutta una... C'è una serie di numeri, tutte addizioni e sottrazioni. Quindi non è praticamente... Non è che ogni quadro deve fare 43. Secondo me la somma dei quadri con i numeri sotto deve fare 43. Capito? Quindi se la signora ha 56 anni... 56 meno... Ah no, però 56 meno 43 fa 5, fa gli anni del bimbo. No, ma se tu metti quella signora sul lì, praticamente devi fare poi il calcolo con i 13. E quindi o con almeno 13 o con più 13. Eh, però 43 più 13 fa 56 ed è giusto. Eh, però poi c'è l'altro da aggiungere. È per quello che non viene la somma, perché c'è l'altro calcolo da fare. Non è un solo quadro, sono due quadri. E quello è il problema, perché... Cioè, probabilmente chi sa bene fare... Meno 5 non fa 53. Eh, 43. Eh, no. Saprei... Pensavo di aver risolto. Ma qui che numero c'era allora, scusate, qua? 10. Qua c'è 10. 10. Ah, aspetta. Eh sì, ma qua che quadro ci metti? Ma forse noi dobbiamo prendere un altro quadro, scusa. Può essere che ci manchi anche un quadro. Eh, ci manca un quadro, secondo me, a sto punto, eh. Però già con due è difficile, con tre diventa impossibile. Spero che non ci sia un altro quadro. Eh, ma secondo me sì, cioè, ma non sta qua. Per cui io me darei... No? Eh, no, no, sì, sì. Io intanto... Eh, vedi? Cioè, ci sono anche due spazi... ...con cui si possono fare le somme. Ma non abbiamo i quadri. Vabbè, comunque, siccome si è fatta anche una certa... Una certa. Sì, oggi abbiamo... Ci siamo dilungate un pochetto, perché, come vedete, gli enigmi si stanno rivelando sempre più elaborati, diciamo. Non difficili, fino adesso. Però elaborati, uno ci deve mezzare un attimino. Allora, ci fermiamo qui. E risolveremo... Anche se penso che adesso non lo possiamo risolvere, perché mancano due quadri, secondo me. C'è poco da risolvere. Comunque, risolveremo quest'enigma a tempo debito. E continueremo a spippolare la casa degli infestati nel prossimo episodio. Ciao a tutti. Ciao! Ciao a tutti.